Perseverare nella missione di fedeltà al Vangelo è il Magistero della Chiesa, ma sempre in ascolto della società e delle persone. È il compito affidato dal Papa ai membri dell'Associazione Radio Maria ricevuti stamani in Vaticano, volti e cuori degli ascoltatori che seguono ogni giorno l'emittente, sostenendola con il volontariato e le offerte. Francesco ricorda l'opera di evangelizzazione intrapresa con costanza nell'ascolto delle preoccupazioni e dei drammi della gente alla quale Radio Maria offre la speranza della fede. Nelle mani della Provvidenza e sotto la protezione della Vergine, l'emittente, ricorda il Papa, si è sviluppata, modernata, diffusa con capillarità nel mondo, arrivando a 30 milioni di ascoltatori, ma sempre nel segno della sobrietà che va anche oggi mantenuta. Francesco ricorda che la radio è soprattutto un mezzo per veicolare la speranza derivante dalla salvezza portata da Cristo e parla del carisma di Radio Maria. L'incoraggiamento del Papa è quello di coltivare sempre il giardino interiore della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio nell'approfondimento della fede. Abbiate sempre presente che voi donate qualcosa di grande e unico, la speranza cristiana, che è ben più di una semplice consolazione spirituale, perché si fonda sulla potenza della risurrezione testimoniata con la fede e le opere di carità. Grazie a tutti.